Come tre anni e mezzo fa, il Rimini non riesce tra le muramiche a sfatare il tabù Fiorenzola. Allora gli emiliani si imposero per 3-1, questa volta strappano un pari meritato al fotofinis. Rimini e Fiorenzola si dividono un tempo per parte con la squadra di Muccioli, che accusa le stesse lacune viste una settimana prima in Coppa Italia con la San Maurese. Solite distrazioni ma letali, così Fiorenzola è libero di portare meritatamente un punto a casa. La gara vede da subito gli ospiti tentare la sortita offensiva con Bigotto, che stoppa il pallone, serve Bulai, che di prima intenzione spara alto. Romagnoni timidamente avanti con questo colpo di testa di Cicarevic e che non crea scompiglio, come la conclusione scordinata da fuori aria ad opera di Valeriani. Quando il Rimini inizia a prendere confidenza con l'avversario, crea grattacapi, ma Simoncelli viene pescato in questo caso in posizione di offside. Valeriani dalla distanza chiama così la deviazione in corner all'attento Vagge. La partita divina a questo punto a senso unico, Simoncelli che è davvero indemoniato, viene fermato così dall'avversario, ma per il direttore di gara si tratta di simulazione, con conseguente ammunizione. Alla mezz'ora, padroni di casa vicinissimi al gol, Simoncelli porta sparsa all'avversario, mette a centro questo tiro cross deviato col piede dall'estremo ospite, permettendo a Pasquini di non agganciare il pallone. Azione corale del Rimini, che parte da Valeriani, poi a Lotti, e la spizzata di Buonaventura, che mette a centro nell'area, dove Simoncelli sfiora soltanto impennando la sfera, che diventa preda del portiere Vagge. Manovra offre c'è il biancorosso che continua con Buonaventura, che conclude dal bettice al sinistro dell'area, Vagge blocca senza problemi. Bulai, sul fine di prima forza del gioco, salva sulla linea di porti il pallonetto fin troppo morbido di Simoncelli, servito in verticale da Cicarevic, strozzando in gola l'uno di gioia dei tifosi biancorossi. A 43esimo, Buonaventura si veste da assistman e serve un'ottima palla sulla testa di Brighi, che viene anticipato. È corner, ma attenzione, questo corner risulterà letale. Infatti, arriva il gol del Rimini dalla bandierina, palla Pasquini, che taglia un cross perfetto di sinistro per Brighi, che questa volta non sbaglia. È suo il primo gol biancorosso in questo campionato, targato 2017-2018 sotto la gestione Muccioli. Nella ripresa, in Firenzola, cerca subito la via del gol con una concursione da fuori aria di Bramante, senza fortuna. Ancora Bramante protagonista, concursione a giro, deviati in corner dalla difesa locale. Allotti, intorno al quindicesimo, crossa dalla destra per Buonaventura, colpo di testa con la sfera, che termina lentamente a lato. Crossa dalla destra di Marra, questa volta siamo sulla parte opposta per Bosio, che di testa fa incorciare la palla sul palo. Bramante raccoglie, ma spara incredibilmente alle stelle. Intorno alla mezz'ora, Allotti, con un cross teso dalla bandierina, chiama alla parata Vagge, che sbanaccia così. Ancora una volta Allotti, sempre lui protagonista dalla stessa bandierina, chiama ancora una volta Vagge a sbanacciare questo suo tentativo. Prima che Muccioli vada su tutte le furie, capendo che la sua squadra non riesce a chiudere la partita. Quasi un presentimento del tecnico che si tramuta, in realtà, quando all'ottantanovesimo, da una punizione con passaggio corto al lato sinistro, Bramante inventa il traversone, che Benedetti getta in fondo al sacco. 1-1 tra lo stupore dei padri di casa, e la gioia del Fiorenzola, che legittima così il pari, dopo un secondo tempo davvero buono, dimostrando da essere formazione cinica. Due tini in porta, un palo e un gol. Zero interventi di Scotti, ma questo dice poco. Il Rimini si affida alla scaramanzia. Dopo l'1-1 di Tutocuoio, di due anni fa con salvezza finale in Lega Pro, e l'1-1 dell'esordio dello scorso anno sul campo della Gentana, con relativa vittoria del campionato d'eccellenza, non rimane che trovare un sorriso amaro, che potrà magari essere di buon auspicio per il futuro. Vero, Scotti? Poi ho visto, ora io guardo ogni tanto su Facebook, che il Rimini ha vinto i campionati, partendo dall'1-1. Partendo dal pareggio, quindi diciamo che l'abbiamo fatta apposta, dai.